L'ammarico è tanto perché non riusciamo a dare continuità di prestazioni soprattutto a livello di atteggiamento perché martedì seppur soffrendo avevamo dato segni di grande agonismo e che oggi per tutto il primo tempo almeno sono mancati totalmente. Penso che così molli si fa fatica, ci vuole tutt'altro spirito, tutt'altro atteggiamento soprattutto in questo momento per credere a quello che già è un percorso difficile. Non lo so neanche io, dobbiamo veramente singolarmente farci un esame di coscienza ma profondo. Per capire che in questi momenti qua ci vuole anche coraggio, ci vuole coraggio di osare qualcosa in più in campo perché la situazione, parliamoci chiaro, ad oggi è disastrosa. Quindi ci vuole un cambio proprio nell'interpretazione anche della gara. Dobbiamo togliere questo freno a mano che spesso teniamo su perché così si fa veramente fatica all'interno della partita. Vincenzo Grazie Ciao Vincenzo, senti tu sei un uomo di lungo corso qui a Pescara, hai vissuto momenti bellissimi ma hai vissuto anche delle stagioni molto complicate per certi versi simili a questa, quella della Serie A con tutte le differenze del caso ma anche quella della salvezza di Pilon e quella dell'anno scorso. A livello di atteggiamento, perché di tattica con te ovviamente non è il caso di parlarne, il gruppo rivedi gli stessi spettri o qualcosa di peggiore? No, guarda, sono più preoccupato per questa mancanza di continuità ecco nell'atteggiamento. Ripeto, bisogna cercare di avere un altro spirito, di tenerci tanto a questa situazione, volere veramente venire fuori anche un passo alla volta. Però allo stesso tempo credo che ci voglia anche un pizzico in più di coraggio quando scendiamo in campo perché non si possono alternare queste fasi delle partite dove magari a volte hai più coraggio e certe cose ti vengono e a volte dove subisci troppo passivamente l'avversario. Sì, ciao. Come te lo spieghi questo fatto che la personalità che dovrebbe essere propria delle squadre esperte invece è quella che proprio manca in questa squadra? Sì, sta venendo a mancare non in tutte le partite ma ad oggi nella maggior parte ecco e come ho detto prima se facciamo una prestazione così Gagliarda-Empoli oggi dovevamo dare continuità perlomeno sotto quello che era l'aspetto dell'agonismo e della determinazione della grinta. Poi ci sono gli avversari che cambiano, che sono organizzati, che hanno dei punti di forza e invece molto spesso siamo qui a commentare prestazioni scialbe di determinazione. Per me questo non possiamo proprio permettercelo, questa è la prima cosa che va cancellata, va aggiustata, va messa a posto appunto con un esame di coscienza vero che sia profondo di ognuno di noi, che tiri fuori quanto ci tenga a questa situazione. Scusa, è concludo, ma secondo me può bastare questo per recuperare tutti i punti che comunque stiamo a recuperare perché è chiaro che adesso è una rincorsa dove non puoi più giocare nel pareggio, cioè può bastare questo? Ci deve essere anche qualcos'altro, visto e considerato che sui nervi forse abbiamo preso il pareggio a Empoli, oggi la reazione è tutta un quarto d'ora, ma forse i nervi non bastano, ci sarebbe qualcos'altro. No, no, sicuramente non basta solo questo, quando parlavo di coraggio parlo di coraggio di provare le cose che si preparano in settimana perché se poi dopo in campo scendiamo timorosi e contratti così abbiamo visto che facciamo ancora peggio e penso sia questa l'unica cosa. E ma da che cosa dipende, scusa Vincenzo, perché se ne provate in settimana riesce tutto bene, poi il giorno della partita, non so, siete contratti, qual è la motivazione, qual è la causa? Beh, sicuramente la classifica non ti aiuta, devi tirare fuori qualcosa da dentro, cercare di estranearti un attimo almeno per quei 90-100 minuti da quella che è la situazione attuale e fare una partita appunto al massimo cercando di osare anche qualcosa in più, cercando di tirare fuori quelli che sono magari i propri punti di forza. Vinci, ciao, buonasera, si parla di questo esonero di Breda, del probabile arrivo, si fanno già i nomi di grassadonia, forse potrebbero richiamare odd, però una costante c'è Vincenzo, cioè ci siete voi in campo, una persona come te che ha fatto una scelta di vita e che ama pescare, l'hai fatto tu e lo sappiamo tutti, abbiamo sempre elogiato per questo, ma come li fai a trasmettere da capitano ad altri tuoi compagni, io vedo Vincenzo certi atteggiamenti veramente fastidiosi e indisponenti di alcuni tuoi compagni di campo, queste sono cose che non si allenano Vincenzo, lo sai meglio di me, è chiaro che tu, Balzano e forse qualche altro ragazzino, per il resto c'è da veramente mettersi le mani sui capelli che io non ho. Guarda abbiamo anche questa settimana, appunto c'eravamo anche parlati tra di noi, c'eravamo guardati in faccia e appunto a Empoli abbiamo fatto un altro tipo di prestazione, quella di oggi onestamente mi lascia sorpreso e ci lascia sorpresi, che pensavamo appunto di dare continuità, ma come ti ho detto prima nasce da ogni singolo giocatore, nasce dalle motivazioni vere che uno ha dentro, di volere il bene del Pescara da qui a fine campionato, ecco, sono come avete detto voi, sono cose che non si allenano, ma sono cose che si possono cercare di trasmettere in qualsiasi maniera, ecco, con le buone, con le cattive, in ogni modo, noi dobbiamo cercare, non è semplice, dobbiamo cercare però questo di farlo passare da qui alla fine, ecco, perché non possiamo permetterci lontanamente di mollare a febbraio un campionato, ecco, non lo possiamo in primis per noi stessi, se abbiamo un po' di orgoglio e per rispetto appunto di una città, ma, ripeto, prima ancora di noi stessi come professionisti, perché penso che dentro, dopo queste prestazioni non stia bene nessuno. Vincenzo, scusami, credi che qualche tuo compagno si senta già retrocesso? Perché a me io ho avuto questa impressione al termine della gara di oggi, si può anche perdere, si può anche retrocedere, però lottando un po' di più, Vincenzo. Se qualche mio compagno si sente retrocesso, non lo so, penso che chi se ne debba accorgere, chi ha questo tipo di atteggiamento può benissimo starsene fuori da qui alla fine, noi dobbiamo, ti ripeto, è troppo presto adesso per tirare queste somme, la situazione è vera e drammatica, ma come ho detto prima, non possiamo permetterci ora di mollare e non lo faremo, le parole le abbiamo fatte, sono sempre le stesse, sono già tante, cerchiamo ora di preparare la prossima partita. Senti, io ti faccio un'ultima domanda perché i numeri non mentono mai, però nelle prime otto partite della gestione del Bredda avete fatto dodici punti e il tecnico aveva rianimato il Delfino. Secondo te che cosa è successo, Vincenzo? Perché è strana questa metamorfosi negativa, cioè un punto nelle ultime sei partite, cinque sconfitte. Davvero, faccio fatica a risponderti perché, come ti ho già detto adesso, penso nasca da tante cose, dall'atteggiamento, dal coraggio e dal voler osare a fare quel qualcosa in più e andare oltre i limiti che oggi stiamo dimostrando singolarmente come giocatori.